Non so, ha diverse consistenze, oppure è sbaglio. È spugnoso. Porso Bianco non l'ha gradito. Hai ragione, che cosa ci hanno messo dentro? È disgusto. Sto ore e ore di fila per questo. Vieni, picco. Attento, è vietato. Ci è mancato poco. Andiamo a riprenderci i soldi. Scusa, picco. Ecco, vorrei... Scusaci. Sabe, il suo taco non è stato affatto di nostro gradimento. Ci restituisce i soldi? Non posso riprenderlo indietro. E comunque l'avete mangiato. Credete forse che dorma in piedi? No, ma la qualità del suo cibo non giustifica in nessun modo la fila che abbiamo fatto. Senza fisica. Quindi questa sarebbe una critica al mio cibo. Sparite, il prossimo. Cosa?